Vorrei affrontare nel mio mandato, in questi 5 anni mi attendo di grande lavoro, ma con grande soddisfazione cercherò di addempiere a questo regalo che mi ha dato la consigliatura regionale, di portare un elemento innovativo, l'affettività in termini del carcere. In che senso? Innanzitutto curare e attenzionare tutte quelle mamme detenute che hanno figli minori di 3 anni e dai una dignità all'affettività verso la propria prole. Questa è una cosa importantissima, io ritengo che non si possa avviare un percorso di recupero civile se non si può passare per l'affettività della persona. Gli attori sociali che sono intorno al detenuto devono partecipare in questa azione di dignità al detenuto, di dare sostegno alla persona del detenuto. Noi vogliamo che chi ha sbagliato i confronti dello Stato sconti la propria pena fino all'ultimo giorno e saldi il proprio debito con lo Stato. Questo però non vuol dire che debba avvenire in condizioni non umane, senza l'ipotesi di attuare, fino in fondo, i principi costituzionali che prevedono la volontà del recupero della persona che ha sbagliato. Le voglio aggiungere che presto avremo anche il garante per l'infanzia, che visto altra autorità di cui la regione era sprovvisto, che visto i fatti che stiamo leggendo su Bibiano, crediamo essere stata un'altra buona accelerazione, buona cosa che il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha prodotto.